Cristian Celesia, difensore classe 2002, è ufficialmente un calciatore del Campo Basso. Arriva a titolo definitivo dal Mantua con contratto triennale. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, dove ha giocato anche in prima squadra, è passato poi all'Alessandria. Successivamente ha indossato la maglia della Paganese e ancora quella del Potenza, del Messina e del Mantua. Non vedo l'ora di iniziare a giocare con il Campo Basso, detto il giovane difensore. Il presidente Rizzetta e il mister Braglia sono persone straordinarie. Ho percepito da subito sensazioni molto positive. Conosco Campo Basso perché è nota la sua piazza di tifosi, calorosa e appassionata. E questo aspetto per un giovane calciatore è assai stimolante. Sono pronto, conclude, a lavorare e a dare il meglio per questi colori. Primo giorno di lavoro a vinchiaturo per i lupi, diretti dall'allenatore toscano assieme allo staff tecnico. Presenti i 23 calciatori per iniziare a lavorare e sudare in vista di una stagione che si annuncia intensa e che prenderà il via sabato 10 agosto a Giuliano per l'esordio in Coppa Italia. Dalle 16 del 22 luglio intanto parte la campagna abbonamenti. Nella prima settimana ha prevista anche una prima fase di prelazione riservata in esclusiva ai possessori dell'abbonamento della scorsa stagione. Quest'anno sono previsti i prezzi agevolati per i tifosi più giovani con l'estensione della tariffa ridotta fino ai 20 anni e non più soltanto ai 18. Quindi tutti i nati fra il 2010 e il 2018 possono sottoscrivere l'abbonamento Under 14, quelli nati fra il 2004 e il 2009, quello Under 20.